Un bambino di 5 anni è morto soffocato mentre stava mangiando una brioche accaduto a pero alle porte di Milano. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, stava mangiando una brioche quando un boccone gli sarebbe andato di traverso. I genitori che l'hanno sentito tossire sono subito accorsi per aiutarlo. Nonostante i tentativi di salvarlo, il bimbo in breve è diventato cianotico e non è più riuscito a respirare. Sul posto in via 25 Aprile sono accorsi i soccorritori del 118, ma al loro arrivo il bambino era già deceduto e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.